L'Università degli Studi di Firenze International Center for Social Europe è un'associazione nata all'interno dell'Università degli Studi di Firenze ed ha sviluppato negli ultimi due anni il servizio di internazionalizzazione rivolta alle PMI italiane che vogliono investire nei mercati dell'area balcanica. Lo facciamo attraverso una rete che abbiamo creato in Italia attraverso l'associazione ASSO Albania e altre associazioni di categoria e ovviamente un sistema di consulenza logistiche e accompagnamento in questo caso in Albania e negli altri paesi dell'area balcanica. Il servizio appunto comporta l'analisi di mercato e l'accompagnamento effettivo nonché un aiuto alla consulenza sui finanziamenti pubblici. Alle PMI appunto quello che proponiamo attraverso il know-how è anche di risparmiare tempo e costi e creare effettivamente attività economica all'estero.